Sono passati due giorni dall'appello di Ciro ai nostri microfoni. Oggi siamo tornati ad Alba Adriatica per vedere come sta Ciro Ferriero. La sua storia ha fatto il giro della provincia e ha fatto anche scattare una gara di solidarietà. Ciro l'avevamo lasciato in questa cabina di uno stabilimento balneare ad Alba Adriatica. Oggi Ciro non vive più qui. Non ci vive veramente già dal giorno che ha fatto l'appello a TV6. Un giorno dopo che hanno fatto l'intervista già stavo a dormire in un letto caldo. Adesso sono un po' meglio, avevo un po' di freddo qua perché logicamente stando in una cabina. Adesso per fortuna si sono attivati e io ringrazio la Prologo e chi per loro si è messo a disposizione per me. Mi hanno subito trovato da dormire e da mangiare. Addirittura c'era stato pure un ristorante che mi voleva fornire un pasto caldo ma per me era difficile raggiungerlo. Perché ho seri problemi alle gambe per camminare. Sì, cammino però mi stanco subito, mi fanno male. Però per fortuna qua si mangia pure dopo che mi hanno messo a dormire il pomeriggio e la sera. Due pasti al giorno. A raccogliere l'appello di Ciro la Prologo di Alba Adriatica che ha organizzato una raccolta fondi. La comunità di fedeli della chiesa ecumenica è riuscita a trovargli un tetto per i primi giorni in attesa di soluzioni più a lungo termine. Ma per Ciro Ferriero questa non è una soluzione provvisoria. Per lui serve tanto altro ancora.